Buongiorno, anche quest'oggi andremo a vedere una posizione aperta sull'SMP500 con la metodologia di Volumaster, attualmente siamo in profitto tra i 4 e i 500 euro e vediamo dove riusciremo ad arrivare con questa posizione e successivamente andremo a fare il consuntivo della giornata operativa. Attendiamo giusto un pochino prima di chiudere questa posizione, attualmente il mercato sta continuando a scendere, quindi sta andando nella direzione che abbiamo indicato, ora ci apprestiamo a chiudere a circa 870 euro di profitto, successivamente andiamo a vedere quello che è il consuntivo della giornata operativa, clicchiamo qui, su shoulder, ok, qui c'è il consuntivo, apriamo la calcolatrice, qui mi si è un attimo allargata troppo, ok, andiamo a fare il conteggio, partiamo da 45, meno 45, più 1146, meno 183, meno 321, più 871, sono 1513 euro, questo è un risultato non dei migliori, ma comunque soddisfacente per una giornata operativa, questo è ciò che vedrete all'interno di Volumaster, quindi clicca il link e scriviti qui sotto.